ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco levistico a cosa serve levistico a un parafarmaco appartenente alla categoria degli fitoterapia tinture madre o estratti idroalcolici è commercializzato in italia dall'azienda fito medical snc informazioni commerciali titolare fito medical snc concessionario fito medical snc categoria di appartenenza fitoterapia tinture madre o estratti idroalcolici confezioni levistico levistico 100 ml gocce 60 a levistico levistico 1000 ml 60 a levistico levistico 200 ml gocce 60 gradi levistico levistico 500 ml 60 a levistico levistico 50 ml gocce 60 gradi indicazioni agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche della muscolatura liscia impieghi il menagogo e spasmo litico nelle dismenorree e nelle mestruazioni dolorose diuretico nelle forme edematose non nefropatiche e per la prevenzione delle litiasi spasmofilia vescicale e renale nelle cistiti infiammatorie coliche e flatulenze intestinali infiammazioni della gola e nelle afteucerose modalità d'uso assumere 30 gocce diluite in acqua tre volte nell'arco della giornata tenore per dose giornaliera levistico 1300 mg descrizione e caratteristiche estratto idroalcolico da tessuti meristematici vegetali freschi non essiccati avvertenze tenere al di fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano non eccedere la dose giornaliera raccomandata non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato allergeni il prodotto non contiene ingredienti indicati nell'allegato ii bis della direttiva 2003 89 c e successive modifiche componenti e ingredienti alcol levistico levisticum officinale coq radici 28,6 per cento acqua grado alcolico alc 60 per cento all analisi ingredienti conservanti assenti senza glutine 20 ppm antiossidanti assenti non contiene oggi m conforme fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato